E' un po' che volevo parlarti Laura, non è una cosa di oggi quella che ti voglio dire. Insomma è sempre a proposto della gita, 200 euro per andare a fare questa gita, capisco che tu vuoi vedere Roma, non sei mai stata a Roma, però Laura io non so come dirtelo, ma non posso, è una cosa che in questo momento non possiamo fare, ma come può fare se n'è andato, era rimasto qualcosa, sì abbiamo cercato di sbagliare. Tranquilla mamma, una soluzione la troviamo, d'altronde dobbiamo resistere a tutti i costi. Buonasera, sono Laura. Sì bene, mio marito ti aspetta spunto nel suo studio, anche altri. Io i compiti degli ho correnti, però ancora non è sufficiente la lavoro. Io i compiti degli ho correnti, però ancora non è sufficiente la lavoro. Tu la sai calcolare la bisettrice con il compasso? No. Sì bene, mio marito. Ma come hai potuto? Come hai potuto? Non ho fatto niente io. Niente? Lo chiami niente quello? È tutto quello che c'è scritto sui giornali. Ma, tesoro, ma non crederai... Tesoro, un cazzo, devi sparire dalla mia vita, mi fai schifo. Vattene! Va bene, mio marito! Capisci amico mio, io lo so, noi siamo innocenti, sì, dobbiamo resistere a tutti i costi. Grazie a tutti.